Puglia ancora senza nuovi contagi e la quota zero oramai dura da 5 giorni consecutivi. Ottime notizie quelle arrivate anche oggi dal consueto bollettino della Regione che per la giornata di oggi non segnala ulteriori casi positivi al Covid-19 che rimangono in totale 4.530. 2.413 invece i test diagnostici effettuati nelle ultime 24 ore, 180.664 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. E nella giornata di oggi non si aggiorna neanche il bilancio dei decessi che restano in tutto 545 da quando è cominciata la pandemia. Buone anche le informazioni che arrivano dalla rete ospedaliera pugliese dedicata al virus dove si registra un calo delle persone ricoverate con sintomi in tutto 24 mentre continuano a rimanere vuoti i reparti di terapia intensiva. Scende il numero dei pazienti attualmente positivi, 112 contro i 129 di ieri e cresce ancora invece il dato sui malati che hanno vinto la loro battaglia contro il virus e che salgono in totale a quota 3873, vale a dire altri 16 guariti nelle ultime 24 ore.